buongiorno a tutti ragazzi in questo video veni vedete con la felpa perché oggi non ce n'è neve ma purtroppo solo gelo e indovinate chi è il responsabile sì è tornato di nuovo non l'anticiclone il caldo altrimenti non ero nemmeno così lo ero lo stesso però ve lo dico lui è venuto chi il 2020 nel senso che questo qui è l'inverno che doveva fare l'anno scorso infatti come è andato l'anno andrà anche il clima ma è pur fortuna è solo questo qui che è venuto dalla russia il prossimo invece ci sarà anche al sud da me la neve è arrivato solo il gelo temperature anche se arrivano allo zero qua purtroppo non sono abbastanza nubi per questo non ce n'è neve ma solo gelo atroce beh vi auguro una buona visione ragazzi raga benvenuti qui di nuovo nell'applicazione del web e del game map per vedere ok andiamo a vedere le previsioni andiamo a vedere quindi giorni della settimana lo anding dobbiamo attendere significa e adesso vediamo cosa succede quindi giorni della settimana ora dovrebbe dare le previsioni non penso che ci sia neve più perché visto le temperature stanno anche aumentando visto poi qui c'è neve debole neve debole poi sto tutto niente ragazzi vedete proprio niente e quindi che si può fare il tempo è così le temperature stanno anche aumentando io penso che stia arrivando un caldo per le temperature che stanno aumentando perché se arriva un caldo succede un bel disastro ragazzi tutto quel leve resta accumulato di 10.000 metri con la neve che l'ha fatto diventare diventerà una valanga e la neve scenderà un'altra volta facendo disastri questa volta perciò ragazzi ragazzi adesso andiamo a vedere come sono le temperature no dopo ma andiamo a vedere le temperature ok ragazzi eccoci qua un'altra volta di nuovo ho fatto una pausa ok cominciamo ancora il paesaggio è bianco oggi forse possiamo andare a vedere come è l'asteroide raga lo andiamo a vedere immediatamente se già nei 10 per di ingrandimento dobbiamo fare evacuare tutti così calcolo anche quando è grande l'asteroide e anche quando può essere alto il muro d'acqua calcolando la grandezza dell'asteroide ecco qui gioca facciamo clicchiamo gioca e adesso ci dà le temperature la quale quando sarà vediamo andiamo a vedere ragazzi quando saranno le temperature che non spunta dovrebbe spuntare ah ecco si aggira verso i 37 gradi sotto zero l'everest d'altronde così può arrivare a volte la temperatura ma 40 non ci è arrivato mai o 50 o più di 120 gradi sotto zero la pazzi 3 gradi sotto zero ancora su angry dragon per questo ancora c'è la neve perché se si va a aumentare di più si può ciò 65 gradi sotto zero su un grisci al coluscio l'artico 15 gradi sotto zero su rushmore 21 gradi tra los angeles e san francisco e new york possibilmente anche 15 gradi poi 30 gradi la nel paciente english shark world evolution in isla nubia arriva un caldo torrido estivo 38 gradi ma adesso facciamo chiarezza oggi guardate lui il 2020 è tornato ci aveva lasciato e c'è scritto inverno tardivo 2020 non porta neve solo il gelo ovviamente la neve in italia c'è ma non al sud arriva solo in pianura c'è sfiora il nord e il sud proprio il centro ma niente però grandi sorprese il 2021 inverno ci servirà quando? fine di gennaio l'inverno l'anno scorso non l'ha fatto e questo qui si stava trattenendo come è fatto il 2020 fa anche l'inverno 2020 così oggi è previsto visto l'aria gelida arrivata su gran parte d'Italia ma ancora non sono attese nevicate poi domani neve vedete lì solo gelo gran parte del sud cioè che non ci sono tante nubi poche possibilmente qualche fiocco anche sul letto non lo potrebbe fare e pionge poi dal 18 gennaio e 20 gennaio ancora si manderà così quindi il 2020 ancora resterà ancora tra noi e chissà che combinerà che è tornato all'attacco nell'incarnazione del vortice invernale dell'inverno tardivo poi il 21 gennaio si sposta verso il nord Italia il gelo russo poi andiamo verso il 22 e 23 gennaio arriva l'anticiclone e il 2020 al sud ci lascia ma ancora al nord c'è beh almeno il sud lo lascia è stato lui poi il 24 gennaio l'anticiclone ma non è tanto prepotente è leggero 24 gennaio prende gran parte della Sicilia cioè dove sto io e poi vendiamo il 25 di gennaio il 24 di gennaio ancora visto raga l'anticiclone prende anche la Calabria questa volta avanza su gran parte di Italia portando le temperature anche in aumento poi dal 25 al 28 l'anticiclone raggiunge anche il centro Italia ma che cosa succederà dopo il 28 di gennaio beh adesso lo scopriremo ecco cosa succede verso il 29 di gennaio una nuova massa d'aria gelida proveniente dalla Siberia e della rottura del vortice polare arriva una super massa d'aria gelida portando altro gelo e neve possibilmente verso poi passiamo al 30 l'aria gelida si stenderà anche sul centro Italia anche prendendo un po' la Calabria ma non la Sicilia l'anticiclone si allontana sempre di più ovviamente poi passiamo al 31 gennaio proprio quando arriva visto il gelo prende anche la Sicilia questa volta e arriva anche la neve nel centro Italia poi possibilmente l'1 di febbraio può nevicare in Sicilia sempre se il vortice si espande ancora di più la massa d'aria gelida intendo dire non il vortice questa qui visto 1 febbraio e 3 febbraio possibile anche fino al 5 8 febbraio cioè sta dicendo che anche possibile dal 5 anche all'8 di febbraio ma si sa che è dall'1 al 3 quindi fino al mionomastico qui la neve prende anche la Sicilia avete visto che la massa d'aria blu prende la Sicilia e quindi arriva anche lì questo qui è verso il 31 di gennaio l'inverno 2021 e il 2020 c'è stato oggi e anche domani possibilmente l'inverno tardivo del 2020 che non ha portato né neve storica né niente proprio gelo così per comparsa poi guardiamo può arrivare anche possibilmente anche il Burian verso il 5 anche il 10 di febbraio il vento siberiano l'alta pressione avanza verso il polo nord in modo che il vortice si spacchi e può raggiungere anche l'Europa questo c'è scritto possibile 10 febbraio qui poi guardiamo l'ipotesi che ci possa essere un'ondata di gelo per il mio compleanno se l'inverno forse mi farà un altro regalo di compleanno lo gradirei molto quello che ha fatto due anni fa lo di due anni fa non ha portato neve così abbondante perché già l'aveva fatto per l'epifania giusto perché se già l'aveva fatto non è che aveva le forze per rifarlo di nuovo e questo qui se arriva il burian la neve si stenderebbe in tutta l'Italia altrimenti è ancora un'ipotesi ok tanto il 2020 non durerà per molto durerà o 5 o 3 giorni e ritornerà normale e poi nel prossimo weekend fra due settimane tornerà l'inverno 2021 ovvero che porta anche la neve al sud da me anziché in pianura prossimamente questo ci sarà anche per il mio compleanno e i termometri caleranno anche di più dello zero beh speriamo che vada bene anche questo inverno 2021 questo qui era l'incarnazione del 2020 che si è preso una massa di aria gelida a parte beh adesso concludiamo il video ok beh ragazzi spero che questo video è arrivato il maledetto inverno tardivo 2020 vi sia piaciuto scacca mi raccomando mettete un bel like seguite su instagram e noi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti